Dottore 10, dottore 11, dottore 12, Rose, Amy, Clara e il maestro in un gruppone del Dr. Pooh! L'universo è wibbly wobbly, timey wimey stuff un signore del tempo sa viaggiare questo Tantix parte sempre a gran velocità un vortice nel tempo vola e va il mio spazio più profondo non ci aspetta, non si sa ma quasi sempre con noi ce l'avrà viaggio ai confini dell'universo con compagni che non conosco per scoprire il futuro e il mondo che verrà viaggio per tutto lo spazio e il tempo tra pianeti che non conosco per capire il passaggio, quello è il passaggio tanto tempo fa seminari, seminari, seminari Dottore chi? seminari, seminari, seminari alonzi vieni tempo al tempo ad uno perdonarà fretta al conto e ci separerà e se l'universo un giorno poi ci ricongiungerà ripartiremo per l'immensità viaggio ai confini dell'universo tra gara se che non conosco per seguire il dottore dove le porterà viaggio per tutto lo spazio e il tempo su una nave grande all'interno con il mio cacciavite un gran sopracciglia con il mio portai ma viaggio nel filmamento con un signore del tempo leggeremo fra qualche nuova civiltà ai confini dell'universo per scoprire il futuro e il mondo che verrà viaggio per tutto lo spazio e tempo tra pianeti che non conosco per capire il passato quello che è stato tanto tempo fa seminari, seminari, seminari Dio del becco seminari, seminari, seminari Dio del becco Grazie